Ciao a tutti amici e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un'acconciatura con una treccia francese, ideale perché ha i capelli lunghi. Prendiamo una sezione di capelli e la dividiamo in tre choc e realizziamo una treccia francese. A questa aggiungiamo sezioni di capelli dalla parte inferiore. Adesso aggiungiamo sezioni di capelli solo dalla parte superiore. Ora aggiungiamo sezioni sia dalla parte superiore che inferiore. Blocchiamo con un elastico in silicone e raccogliamo la treccia fissandola alla testa con le forcine. Infine allarghiamo le varie sezioni. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate e se volete nel mio blog troverete l'articolo dedicato con maggiori informazioni. Inoltre vi ricordo che mi potete seguire anche su Facebook, Instagram e Twitter. E al prossimo video, ciao!